Si riunirà domani in prefettura Sassari il tavolo tecnico per la definizione di una metodologia relativa ai prezzi finali dei prodotti, correlando il prezzo del latte alle dinamiche del mercato del formaggio. A convocarle il prefetto di Sassari, Giuseppe Marani, che nella riunione del tavolo del latte a Roma è stato nominato commissario governativo ad Acta. Riprende pertanto la trattativa per definire quello che rimane del nodo principale dell'avvertenza, il prezzo del latte, che ha portato due settimane fa i pastori in piazza. Una protesta che ha unito le comunità e attraversato tutta la Sardegna con numerose manifestazioni che hanno avuto come light motive lo sversamento del latte, un atto divenuto il simbolo di una rivolta che non è uguale nella storia recente della Sardegna. Adesso però occorre chiudere la partita per riavviare la filiera. I pastori e le associazioni in categoria chiedono che si fissi il prezzo del latte attorno agli 80 centesimi al litro, superiore ai 72 centesimi fissati nel tavolo del latte di Cagliari, presunto dal ministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio. L'obiettivo è la soglia dell'euro al litro, che è stato uno dei punti fermi della piattaforma rivendicativa dei pastori e rimane attuale più che mai. Questo per consentire agli allevatori di coprire le spese di produzione e avere il giusto guadagno. Il governo e la regione hanno messo in campo importanti risorse finanziarie, 50 milioni di euro per acquistare gli stock di pecorino romano in venduto. Questo dovrebbe contribuire a far salire il prezzo del prodotto sui mercati e di conseguenza anche quello del latte. Gli industriali che hanno disertato il tavolo di Roma dovrebbero essere presenti a Sassari. La ripresa del dialogo è fondamentale per togliere qualsiasi alibi ai malviventi che intendono sfruttare la protesta dei pastori per compiere azioni delittuose. Il campanello d'allarme è suonato ieri a Orune, dove due malviventi armati di fucile mascherati hanno costretto l'autista di un camion adibito al trasporto del latte per il caseificio Pinna a sversarlo sull'asfalto. Un agguatto ha messo a segno attorno alle 8.30 al bivio per Bitti, un episodio su cui stanno indagando i carabinieri della stazione di Orune e della compagnia di Bitti.